Allora, prima che vado a dormire finisco sta lettera N, va? Allora, questa è Nike Le Nike, sì, sì, quelle là, sì, però si pronuncia Nike Dea della Vittoria, diciamo, è una specie di Atena però più... Più, diciamo, meno strategica, meno tutto, è più... Sì, no, in realtà è strategica, molto strategica, però diciamo che... Non è proprio una Dea della Guerra, è proprio una specie di... Comandante in seconda di Zeus, una cosa del genere in realtà Allora, con la skin d'Angelo Caduto, praticamente lei è un warrior È praticamente un personaggio che adesso sta tra buono a... Meh, perché praticamente si basa molto sull'abilità del giocatore È un personaggio molto buono secondo me, perché... Adesso è tornato... Insieme a Samuoco è stata la grande sorpresa di questa season, praticamente Sia solo lane che altri ruoli, molti in giungla, altri così L'arma sembra strana, in effetti, ora la sto guardando Sembra che è stata scritta, infatti non fatta in 3D, però tecnicamente è una ascia Credo, non so Aggiuntivamente Questa non è la Nike originale, più o meno La seconda skill aveva un altro effetto, che era un buff che dava... Compiti da fare durante la partita E ogni volta che un team, che il team proprio, ovvero il team di Nike Guadagna, fa uno di questi compiti Guadagna potenza Guadagna un laurel, cioè una cosa dell'oro E guadagna, una pezza dell'oro dell'oro Guadagna potere fisico, potere e velocità di movimento E possono esserci fino a 3 laurel Cioè fino a 3 cose dell'oro Il primo compito È eliminare 10 god come un team Quindi totali, 10 kill totali Il secondo compito è eliminare 250 minion Il terzo compito è avere almeno 2 compagni di squadra al 20 Quindi praticamente queste cose si fanno tutti durante la partita Insomma, specialmente l'ultimo che è late game E vi dà, come dice, potenza e boom speed Cosa strana, non c'è scritto quanto ti dà Magari devo averli Se uccide 10 god, te saluto Vabbè Fidatemi sulla parola Ok, per favore Ma non c'ho tempo, non c'ho stanco Prima skill, allora Originalmente questa skill faceva solo i due attacchi Con il potenziamento della seconda skill vecchia Cioè il buff faceva un terzo attacco e faceva disarm Adesso semplicemente farà 3 attacchi in linea retta Consecutivi dove il terzo attacco Se viene colpito da tutti e tre gli attacchi Ah, pure? Ok, quindi dice Se viene colpito due volte Due volte da questa skill Riduce, perde protezione Se viene colpito tre volte da questa skill Avrà subito anche un disarm Che vuol dire non potrà fare attacchi base Ed è immune knock up durante questa skill Ah no, knock back Avete rotto le balle Capito? Especialmente perché tipo Sobek C'ha un knock up knock back Eh, basta, dai Però si può annullare Quindi tipo un silence o uno stun o così così La potete annullare questa skill E mandarle nel cooldown Seconda skill Che non c'era questa Barrier formation Come vedete l'attivazione Crea questa barriera Che praticamente è davanti a sé Ehm Che blocca gli attacchi base Mentre sta attivando questa Questa abilità Praticamente Ehm 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 Si gira lentamente Come vedete Molto lentamente E vabbè Ehm Ehm E knock back moon Ehm E basta I nemici che vengono colpiti dalla barriera Praticamente vengono ribalzati indietro Lo vedete E subiscono danni Ah Ehm 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 Se la attivate voi Ehm Cioè la spegnete prima voi Oppure aspettate che si Che collassi da sola Farà danni Ovviamente non è che faccia danni In base a quanto tempo rimane attiva Quindi potete disattivare o attivare subito Diciamo che è una maniera per controllare la way L'ondeate E tenere a battere il nemico Eccetera eccetera Seconda skill Terza skill scusatemi E' un salto E' semplice All'atterraggio farà danni E lancerà i nemici in aria Prima il lanciare i nemici in aria Non ce l'aveva se non sbaglio Con la Solo col buff ce l'aveva Adesso arriviamo alla sua ultima Ah tra l'altro lei Come ha resso molte personaggi E' un personaggio che quando lo si vede In squadra avversaria Bisogna prendersi una determinata reliquia Ovvero Questa Chiamata Sander Spear Che praticamente funziona come counter Per tutti i nemici che hanno Tantissima salute E Come si dice Tantissima salute E tante Damage reduction Riduzione di danni Come Osiris Tulu E altre cose varie Lei funziona Con lei funziona con la sua ulti Che praticamente la sua ulti Come vedete Ha un'area di attacco enorme Lancia un'onda d'ulto Che praticamente Fa danni ai nemici E li rallenta Aggiuntivamente Guadagna una Una percentuale della sua salute massima Come scudo Che dura 10 secondi Ah si Ed è emune Agli effetti di controllo E Questa barriera Rompe le palle Parecchio Perché come vedete È una bella barriera Che era grossa Più salute avete Più barriera avete Perché scala sulla vostra salute massima Fino alla metà Della vostra salute massima E praticamente Se colpite Colpite una nike In avversaria Che ha questa Questa cosa attiva Questa barriera attiva Con un thunder Cioè quella reliquia La uccidete Le la togliete istantaneamente La perde istantaneamente proprio E quindi Non solo Poi aggiuntivamente Potenziata questa reliquia Fa si che prendono danni aggiuntivi Da tutte le fonti Quindi è utile Per dare però Velocemente i personaggi Questo L'ho comprata Durante un video Che ho postato Sul canale Da poco Quello di terra Ecco Che ho fatto in live Viene in live Andiamo avanti con Nox Un'altra bella signora Allora Lei è Nox Sarebbe Nix Nella versione greca Qui è Nox Nella versione romana Questa gentile signora Che non potete vedere Più di tanto Non so se si vede bene Con la skin Però diciamo che C'è una buona misura Di Ok No Basta È la classica È un mago Ed è la classica Diciamo Persona Ah Nagi era un warrior Scusatemi Ho stato dimentato di dirlo Vero? Sì È la classica Signora Che ama i suoi figli Anche se Sono un casino Per la società Ecco Perché lei Diciamo È la madre di tutti i mostri È la madre di Thanatos Hypnos Hypnos Poi amare di parecchi mostri Le furie Cose così E diciamo che Eh Però è bella Mi piace Lei è bellissima Non me ne frega un cazzo Lei è la data della notte È sempre figa Allora La passiva Realmente Ogni volta che usa Un'abilità Accende una candela Che adesso Questa skin Sta scendessa Dei draghi È sto candela Poi che c'è in mano Accende una candela Praticamente Per ogni candela Che c'ha accesa Guadagna Al 3% Di potere magico Quando prende danni Una candela Si spegne Dovrebbero essere Massimo 4 No Yes Allora Prima skill Oddio È un proiettile Praticamente Che passa Attraverso i minioni Fa danni adesso Perché l'hanno aggiunta Da poco questa cosa E praticamente Se si ferma Su un nemico Scolpisce un nemico Praticamente Lo fermo sul posto E gli fa danni continui Mentre lei Lei può continuare A caricare questa skill A canalizzare questa skill Anche se viene Accolpita da un effetto Di controllo Praticamente Aggiuntivamente Che gli dice È che semplicemente Dovete essere vicini Non dovete stare Troppo distanti Ad un nemico Perché altrimenti Il channel Si disattiva Semplice Non è difficile da capire Semplicemente lo si Ah Non soffrite Le finale del movimento Mentre State Caricando questa skill Mentre state Canalizzando questa skill Seconda skill Danni aria È una zona d'aria Che dopo un po' Scoppia Mentre questa zona È Attiva Praticamente I nemici Sono silenziati All'interno di essa La combo è questa Praticamente Contro i nemici Zona di silenzio E root Per fargli danno Semplice Ovviamente Il nemico Se siete stupidi Rimane dentro La zona di silenzio Ma sta a voi Come Nox Tenerli fermi Lì dentro Terza skill Vabbè È uno scatto In linea retta Che fa dare Tutti i nemici Che passa attraverso Se però Colpisce un alleato Lei Stavo per dire Una cosa Si nasconde Dentro l'alleato Praticamente E Per un tot di periodo Quando questo periodo Finisce Oppure disattiva Della skill Prima Uscite fuori E Blam Farete danni Ad aria Non si capisce molto Questa skin Vero? Sì Farete danni Ad aria Praticamente Ecco Entra dentro La sua ombra Ecco Possiamo dire Diventa la sua ombra Tra l'altro Nox è stata Utilizzata Support E ci sono rimasto Quando l'ho visto In queste Partite Recenti Allora Adesso Giochiamo un po' Biliardo Con la ult Oddio Allora Veramente Lancia questa Enorme Sfera magica Di energia Che Esplode Al primo Contatto Con un enemy God Fa danni Ad aria E Applica dei danni Per tempo Aggiuntivamente Tutti i nemici colpiti Subiscono danni E fanno danni Di tutti Alla In buca Ad angolo Adoro fare Questa battuta Bellissima Ma Cosa No C'è ragione Passa attraverso Ah beh si Sono alleati È vero Adoro Questa cosa Nox Gioca la palla A 8 Boom Passiamo con Un'altra signora Dai Questa Questa è Nuwa Uno dei miei personaggi preferiti Veramente Sia di aspetto Che Di Ski Di Comset E tutto il resto Per Femminile Uno dei miei preferiti È praticamente Della mitodocci cinese Ed è praticamente Una delle divinità Creatrici Praticamente Controlla Tutti e cinque Gli elementi Tecnicamente Sono più di cinque Però vabbè Nella cosa Nella cosa Poco Acqua Vento Terra Fulmine Metallo E legno Sono Sono sette Sì 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 E praticamente L'ha quasi tutti Dentro del suo kit Più o meno La skin è quella Da empress Da imperatrice Ehm Una delle skin Mi è stata preferita Che ha meno Cose di Come skin Però è molto bella Secondo me Non so A me mi piace Questo personaggio Tantissimo Diagraspitz No Non è questa La sua abilità È un mago Tra l'altro Come Nox Ehm Allora Non ci sto facendo caso Tutti i personaggi Con la Ehm N Praticamente A parte N Sono tutte femmine Tutte donne Ah Allora La sua passiva Ovviamente Ogni cinque attacchi Base Successi Che colpiscono Un nemico Gli dà Una possibilità Un attacco base Potenziato Che praticamente Che colpisce Fa I root Infligge un root Semplice Non so Perché gli abbiamo dato Una passiva del genere Forse Ah no Giusto Perché Lei Non ha escape Più di tanto E quindi Rischia sempre tanto In lane Diciamo Più o meno Non ha escape L'escape Aumentata I nemici Gli alleati Vengono Vengono Anche loro Potenziati Da sta cosa Cioè vanno in stealth Cioè diventano invisibili E vengono velocizzati Ehm Vabbè Attaccare dentro questa cosa Ovviamente Vi fa rivelare Per tot E i nemici Colpiti E i nemici Che vengono Attraversano questa cosa Vengono colpiti E subescono danni nel tempo Semplice Molto 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 Easy Ah Tipo a livello massimo Sta cosa Praticamente La puoi usare Per fare i viaggi Assurdi Poi vabbè Tecnicamente Non è che siete Diciamo Siete invisibili Però Non sapete Chi ci sia dentro Ecco Si tipo Gli saltate dentro La club E ho detto Mola prendo L'ammazzo In me c'è Entri dentro C'è stato tipo Il support E guarda tipo Allora Si scracchia Le nocche Seconda skill Allora Probabilmente E' una delle prime skill Coipè Tra l'altro Questo è un altro personaggio Molto vecchio Molto vecchio Ha fatto un cambiamento Per quanto riguarda L'aspetto Ecco C'è stata una vecchia skin Si può ottenere La vecchia skin Praticamente L'attivazione Evoca Due Vabbè Fino a tot soldati Di Ceramica Di Di Argilla Ecco Martello Non si ricorda E praticamente Può marchiare Un bersaglio Mentre C'è questo cerchio All'interno Può marchiare Un bersaglio Mentre li rievoca Praticamente Praticamente Attaccheranno Direttamente Il bersaglio Marchiato Finchè Non muore Semplice Se non sono Non hanno niente Di marchiato Attaccheranno I nemici più vicini Anche i minion Ovviamente Prioritizzeranno I god E i personaggi Che colpiscono Nuwa Vabbè Vivono Fino a 10 secondi La cosa La prima Entro 30 unità Praticamente Dasheranno Verso un nemico Come potete vedere E applicano Uno stack Di Riduzione Di protezione Ah Quindi riduce la protezione Col dash Si stacca Fino a 3 volte Rimane per 2 secondi E poi faranno Semplicemente attacchi base Vabbè Io adesso ne posso evocare 2 Perché la skin è solo A livello La skin è solo A livello 2 A livello massimo Ne evocherà 3 E anche Questa skill Ha anche un secondo Effetto Ma adesso Lo si Terza skill Paroglietti Di metallo Che praticamente Lancia E fa danno A tutti quelli Che attraversa Se Colpisce Un soldato Di I suoi soldati Di Creta Di argilla Li fa esplodere Fanno danno Nell'aria E Gli stannerà Questa skill Fa parecchio danno E vabbè È il suo lane clear Diciamo Perché Colpisce l'aria In base a ogni Singolo Cosa che evoca Ogni singolo Soldato che evoca Ovviamente La combo Semplice È questa Evocati soldati Che stanno dentro Poi li fate saltare Addosso in aria Il nemico E il nemico Non se l'aspetta Il problema è che Si sente il suono Sia quando lei Li evoca Che quando Gli dice Tipo attaccate E cose così Mi sente il suono Purtroppo Fa buoni danni Quelle esplosioni In realtà La ulti È una global Innanzitutto Che colpisce A prescindere Non si può schivare Purtroppo A meno che Vabbè Non diventa Demone ai danni E cose così E Praticamente Diventa Demone ai effetti Di controllo Scatta Leggermente in avanti E sale in aria Praticamente E dopo Tottosecondi Farà piovere Fuoco Letteralmente A tutti i nemici Tutti i nemici E praticamente Guadagna Visibilità Di tutti i nemici Anche se Non ne ha Non sembra Faccia tanti danni Ma in realtà She passed through Player made Deposit Ah Quindi Praticamente Se Di esempio Un emir Mi mette davanti Un emir Nimico Mi mette davanti Un muro Io posso passare Attraverso questo Perché sto passando Attraverso i muri Però Di quei Dei giocatori Che hanno creato I giocatori Non è molto Semplice Da usare E capire Ma Come già ho detto Non avendo Escape più di tanto A parte magari Questa qua Per vocizzarvi poco O la ulti Per diventare Immuni All'effetto di controllo Ma Una volta Atterrati Siete fregati C'ha sto problemino Di non avere Molto escape Si gioca E' un personaggio Che Spama parecchio Specialmente La prima skill Perché è un culo Abbastanza ridotto Mid Fissa Secondo me Non credo abbia Una capacità Di Di Fare altri ruoli Secondo me Però Non lo so A me piace un personaggio Però Bisogna essere bravi A usarlo La consigliere è di usare Come uno dei primi maghi Da usare Perché Se impari a usare qualcosa Che non ha un escape Tutti quelli che hanno un escape Praticamente Si sembrano cazzate Da fare Ma a giocare Ma muori Bye Bye